secondo voi riusciremo a trovare la casa dei sogni del nostro cliente di oggi venite con me scopriamolo ciao io sono cattlin andiamo ora a conoscere il nostro cliente di oggi un benvenuto a john ciao a tutti ciao john sei pronto a visitare questa splendida casa tasti non vedo l'ora di scoprire questa casa avete sentito e allora entriamo si entriamo eccoci john quando ho visto questa abitazione sono rimasto sbalordito devo dire che catherine ha colto nel segno immaginavo una casa così veramente interessante in tutti i suoi spazi devo ringraziare catherine per questo hai visto che meraviglia quando ho presentato la casa john credo che sia stato amore a prima vista era contentissimo continuava a guardarsi intorno e penso proprio gli sia piaciuta credo la visita sia andata molto bene e guarda questo apparecchio pensa john è in grado di raffreddare tutta la stanza ma è incredibile questo oggetto ci puoi appoggiare sopra ora vediamo altre stanze della casa pensa john se qui ti stendi puoi dormire bene john siamo arrivati alla conclusione abbiamo visto tutte le stanze della casa ma ora voglio sapere da te cosa ne pensi quali sono le tue impressioni vedi catherine penso sia una proprietà dove poter fare un investimento e grazie a te credo proprio che la comprerò sì che questa casa sia fantastica eccezionale veramente troppo troppo bello credo che seguirò il consiglio di zio sam putterò giù tutto farò tutto legno così al prossimo tornado crollerà tutto e noi lo rifaremo da capo